Mi ricordo ancora quando per sentire le persone dovevo prendere il telefono e parlavo con loro. In realtà adesso con il mio smartphone posso fare di tutto. Posso parlare con le persone, posso mandare mail, posso mandare whatsapp. In fondo è la cosa che in questo periodo mi affascina maggiormente perché ho mio figlio a New York, ho un'amica in California e un'altra amica a Dubai. Allora io ho con me il mio smartphone che mi permette di inviare nello stesso momento la foto a persone diverse. A mia nuora mora a New York, a mio figlio Andrea sempre a New York, alla mia amica della California che abita a Los Angeles e a un'altra mia amica che vive e lavora a Dubai. E' affascinante questo mondo perché effettivamente ci fa vivere in una dimensione molto diversa da quella in cui vivavamo prima.